Siamo in compagnia di Mr. De Luca sul sintetico del Dilido, si è appena concluso l'allenamento congiunto con l'Unione Calcio Bicelli e il risultato finale 1-5. Mr. le indicazioni di questo secondo test dopo l'incontro del Città degli Olivi di domenica contro il Barletta? Sì, buone indicazioni anche perché stiamo smaltendo i carichi di lavoro. Sicuramente le temperature oggi hanno aiutato rispetto a quella che è stata l'amichevole di domenica mattina e quindi abbiamo giocato con temperature più fresche ma soprattutto i ragazzi continuano a lavorare bene e abbiamo fatto una buona prestazione. Come vi ho detto anche in precedenza non è il numero dei gol o se si vince, se si perde o si pareggia ma è soprattutto quello che queste amichevole possono lasciare a livello di miglioramenti e dove andare sicuramente a potenziare ancora qualcosa perché c'è secondo me sempre da lavorare. Diciamo che io non sono mai contento quindi dobbiamo cercare sempre di crescere, di continuare a lavorare come stiamo facendo perché la strada è quella giusta. Una buona prestazione e numero di gol 5 che comunque non sono due dati da sottovalutare perché abbiamo visto, mister, comunque una manovra molto più fluida rispetto a quella di domenica e una facilità proprio nell'arrivare al tiro che si è stata tradotta in 5 gol ma potevano essere molti di più. Quindi comunque un dato, quello dei gol realizzati, che senz'altro fa bene nel percorso di avvicinamento alle gare ufficiali. Sì, ma è soprattutto quello che dicevi, cioè di come abbiamo costruito e come siamo arrivati davanti alla porta e quindi potevamo già dai primi minuti della partita aumentare le occasioni e quindi il numero dei gol. Però la strada è questa, dobbiamo sempre essere attenti però a non concedere niente, a migliorare sotto tutti i punti di vista e dobbiamo eliminare qualche imperfezione che ancora c'è, e questo penso sia normale. Però oggi noto le stesse indicazioni che hai dato tu, soprattutto dal punto di vista della costruzione del gioco e anche della rifinitura. Abbiamo fatto bene anche nella conclusione perché abbiamo realizzato 5 gol, però non ci accontentiamo, non per il risultato perché faccio i complimenti all'Unione Biceglie, un'ottima squadra, società seria, però questo negli allenamenti, soprattutto in questo momento, ci deve portare a essere cattivi sotto tutti i punti di vista. Due spunti tattici. Nel 4-2-3-1 di partenza, Santoro esterno a sinistra, Capitano Attanzo nel suo consueto ruolo di centro avanti. È l'unica soluzione al momento per far convivere i due, o hai in mente, e non siete venuto a svelare le tue idee chiaramente, altri modi, altri sistemi per far convivere, coabitare eventualmente i due. E poi, sempre ricollegandoci al discorso prettamente tattico, come hai ridisegnato nella seconda parte di test la squadra, ci è sembrato un 4-3-3, con qualche sperimentazione anche, con l'è la centrale, abbiamo visto un gran gol di Triarico partendo dalla sinistra, dacci qualche indicazione tattica. Sì, è giusto, anche queste osservazioni sono giuste. Per quanto riguarda Santoro, non è l'unico modo per convivere con l'Attanzio, perché non è soltanto un discorso tra loro due, ma è un discorso di tutta la squadra. Quindi lui può partire sicuramente da più posizioni, è un giocatore molto utile come tanti giocatori che abbiamo in rosa, quindi può, secondo me, ricoprire più posizioni. È bravo ad attaccare la profondità, convive bene con qualsiasi tipo di attaccante. Naturalmente sapevamo, e lo potevamo anche vedere prima, in queste posizioni o comunque nel nostro attacco, però abbiamo gestito anche la situazione vaccini, come abbiamo gestito anche oggi qualche altro ragazzo che è andato a concludere, visto che quasi tutta la squadra alla fine arriva a essere vaccinata. Anche nel secondo tempo abbiamo provato il centrocampo a tre, perché questa può essere una soluzione con gli interpreti che abbiamo, e bene anche Triarico, che spesso avevamo visto magari nelle prime amichevoli a destra, quindi piede su piede, in questa partita invece ha giocato a piede invertito. Anche lui è un giocatore molto duttile che, a mio avviso, può ricoprire i ruoli esterni in entrambe le fasce, quindi sia sul binario sia a piede invertito. Ricordiamo tre gol per Santoro, e vorrei chiedere al mister se anche, sappiamo che è calcio d'estate, anche se il clima oggi, il meteo d'estate è ben poco, per un attaccante, secondo te, comunque danno una spinta particolare, sono i primi gol anche negli ultimi test degli attaccanti, ben tre realizzati, l'unica partita, da un interprete chiamato con le luci comunque dei riflettori puntati, perché sappiamo bene il curriculum di Santoro, e che cosa si aspettano i tifosi da lui. Che spinta danno, anche se in un allenamento congiunto, tre gol nella stessa partita, anche realizzati con modalità differenti, da rapace e con un senso della posizione notevole, soprattutto in quello realizzato al suo terzo gol nel secondo tempo, con una lettura su un errore, su un disimpegno, e non dimentichiamo il bellissimo diagonale all'inizio ripresa, e il gol sempre l'opportunista nel primo tempo. Sì, guardi, la cosa che a me fa piacere non è tanto il gol per l'attaccante, perché poi gli attaccanti vivono per il gol, e devono farne diversi, tanti, perché noi dobbiamo distribuire i vari gol con tutti i giocatori che abbiamo. Per me è l'atteggiamento di tutta la squadra, perché noi abbiamo fatto le prime amichevoli, naturalmente con compagini non della stessa nostra categoria, o di categoria superiore, dove abbiamo fatto tanti gol. Poi era anche giusto vedere in altre amichevoli più dure, come quelle con la Fermana e quella con l'Ece, come la squadra si sacrificava, perché questo campionato, Serie D-Girone H, è un campionato duro. Con la Fermana abbiamo fatto tantissimo, abbiamo preso pali, traverse, potevamo sicuramente fare una prestazione diversa a livello di gol. Con l'Ece sapevamo che in quel momento il Lecce era superiore, però anche lì abbiamo fatto un'ottima prestazione. Questo per dire che non è il numero dei gol, così come col Barletta ne abbiamo fatto uno, ma ne potevamo fare diversi, soprattutto nel primo tempo, anche oggi mi sta bene aumentare il numero dei gol, perché danno fiducia, però io voglio un atteggiamento della squadra, da squadra di categoria, squadra cattiva, che deve fare anche un ottimo gioco, perché il nostro lavoro è anche questo, però è una squadra maliziosa, cattiva, determinata, che sa leggere tutti i momenti della partita, perché conosciamo bene il nostro girone, conosciamo bene che cos'è la Serie D, e servono tutte le componenti. Non serve soltanto il gol, serve anche non prendere gol, quindi bisogna essere anche compatti in fase di non possesso, e tutti quanti devono andare a lottare, lavorare bene sulle transizioni, fare gol sulle palle inattive, e anche questo è un lavoro di tutto lo staff, con Gigi Anaclero, che sta facendo un grande lavoro, quindi noi dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, i ragazzi non si devono far portare da nessun tipo di ansia, di pressione, se in una partita, soprattutto in questo periodo, una palla va a finire di un centimetro fuori, anziché un centimetro dentro. Dobbiamo continuare a lavorare consapevoli delle caratteristiche dei ragazzi, e soprattutto che i veri protagonisti sono loro, e quindi devono stare tranquilli e continuare a giocare, ad allenarsi così come stanno facendo. Il campionato è lungo, noi non vediamo l'ora di iniziare, però è stato importante anche partire prima, per avere i giusti tempi per crescere naturalmente. Chiudiamo con una domanda, non di Casa Bitonto, non di Serie D, dal momento che domenica ci sarà la terza avversaria del campionato d'eccellenza, il Città di Mola, il mistero di un campionato d'eccellenza l'ha vinto, a Monopoli, quasi dieci anni fa, praticamente. Vorremmo sapere da te, mister, che campionato d'eccellenza ci si può aspettare, dal momento che ci seguono anche tifosi di squadre, diciamo dei dintori di Bitonto, non appartenenti alla Serie D. Abbiamo affrontato domenica il Barletta, che sicuramente è tra le squadre più accreditate, tradizione, una grande piazza. Oggi, come hai detto anche tu, un'ottima società, una squadra allestita bene per questo prossimo campionato d'eccellenza, e domenica un ambizioso Città di Mola. Lo conosci bene questo campionato? Se puoi farci anche i nomi di quelle squadre che secondo te saranno sicure protagoniste, si faranno valere sul campo e appunto il livello, ancora una volta, secondo me, alto di questo nostro campionato d'eccellenza. Sopriamo che l'eccellenza pugliese è sempre un campionato altissimo. Tutti quanti dicono che l'eccellenza è una specie di D2, la chiamano, e che la nostra Serie D è una specie di C2. Quindi ci sono tante compagini importanti e siccome ci sono adesso due gironi, un format magari diverso da quello classico, soprattutto quello che ho trovato io nei quattro anni a Castellano e nell'anno della vittoria del campionato Monopoli, è diverso. E anche parlando con qualche allenatore che ho affrontato in queste amichevoli, mi raccontavano un po' la stessa cosa. Magari qualche squadra che punta la vittoria, così come è successo al Barletta l'anno scorso, al Martina nell'altro girone, diciamo potrebbe essere penalizzata da un format del genere, perché puoi fare un grande campionato e poi magari sbagliando una partita nelle fasi finali ti trovi fuori. In un campionato, in qualsiasi campionato, in qualsiasi Serie, chi vince il campionato alla fine anche di un solo punto è perché lo ha meritato e quindi è giusto che si vinca il campionato. Però questo format, dovuto a tante situazioni, a quello che è successo con il Covid, cambia le regole. Quindi ogni allenatore, ogni società adesso deve essere brava ad allestire una squadra per queste regole di avere giocatori che anche in una partita secca hanno quella lucidità per portare avanti la società. Poi nel calcio può capitare di tutto in qualsiasi partita, però peccato che non ci sia più quel format che ha dato tanto alla nostra eccellenza pugliese. Però adesso il regolamento è questo e quindi ognuno si deve adeguare. Saranno tante le compagini allestite bene e ripeto, io posso fare i complimenti a chi ho trovato, sia al Barletta che all'Unione Bicelli. Grazie mister e buon proseguo di lavoro. Continuate a seguirci. Ci si vede domenica per l'amichevole o meglio allenamento congiunto questa nuova dicitura di quella Rossiello di Bitonto match a porte chiuse per il terzo test consecutivo contro una compagine d'eccellenza il Città di Mola. Arrivederci.